Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Una calorosa buonasera a tutti i nostri ascoltatori Oggi giornata intensa per la Fiorentina Agli ore 15 è infatti iniziata la conferenza stampa di presentazione del grande colpo Marco Piasa che ha raggiunto Firenze dopo mesi di rincorse e trattative Alle ore 18 il croato raggiungerà l'altro botto Viola Kevin Miraià Infatti al Fiorentina Store Duomo i due nuovi acquisti dei toscani si concederanno ai nuovi tifosi per una sessione di autografi e fotografie Le statistiche in vista del nuovo campionato hanno documentato come Viola saranno la squadra più giovane del prossimo campionato con un'età media di 23,45 anni Terzo e ultimo posto invece occupato dai rivali bianconeri della Juventus mentre il fondo della classifica è toccato dal Parma dove si andranno a sfiorare i 30 anni medi Per Fiorentina1.com Vincenzo Pennisi Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola A cura di Fiorentina1.com Grazie a tutti